Massimo Di Cataldo è nei guai. La procura di Roma ha indagato il cantante per i reati di maltrattamento e procurato aborto dopo la denuncia su Facebook della sua compagna Anna Laura Millacci, che ha dichiarato sul social network di essere stata aggredita il 18 ottobre dello scorso anno e che le ripetute percosse hanno portato anche all'aborto. La procura sembra che abbia proceduto d'ufficio dopo aver preso visione della documentazione medica che attestava l'interruzione di gravidanza. Sia Massimo Di Cataldo sia la sua compagna Anna Laura Millacci sono stati ascoltati oggi in questura a Roma, separatamente dal PM Eugenio Albamonte. Da indiscrezione si è saputo che i due interessati avrebbero rilasciato dichiarazioni completamente dissonanti e per questo motivo sarà interrogata nei prossimi giorni anche la babysitter della coppia, che ha già una figlia. Le foto pubblicate dalla compagna di Di Cataldo su Facebook, con tanto di ecchimosi al volta e sangue dal naso, risalirebbero circa una settimana fa e probabilmente. A seguito anche della separazione avvenuta nel frattempo della coppia, Anna Laura Millacci avrebbe deciso di raccontare il suo calvario. Lui è un tipo irascibile che scatta per un non nulla, fino ad arrivare alle mani, avrebbe detto in questura la donna.